salve a tutti simmers ben al canale sono marichelle siamo tornati dalla famiglia swan dai nostri neo sposini ragazzi siamo qui con elly eccola qui che lava le mani ed elly ha un grande grande segreto ragazzi che porta con sé infatti come avete visto nella scorsa puntata ha fatto fichi fichi con jacopo ma evidentemente questo fichi fichi ha dato i suoi frutti o almeno forse però lei non vuole dire niente a jacopo e non vuole nemmeno fare il test di gravidanza perché ha un segreto ecco il perché e quindi chissà chissà qual è il suo segreto chi mi segue poverina eh mi sa però che è incinta ragazzi a vedere come sta è incinta vediamo come calano i bisogni mamma mamma insomma allora vediamo cosa abbiamo in frigo niente non abbiamo niente in frigo cucina qualcosa servi la cena per tutti fai un maccherone e formaggio il festival delle spezie che bello raggiunge il festival si sta svolgendo nel quartiere magari ci andiamo però ragazzi siamo anche senza senza soldi quindi vorrei andare dal pozzo tornare dal pozzo e vedere se riusciamo a guadagnare qualcosina magari si ci dà qualche soldino perché guardate abbiamo 63 simoleon abbiamo speso tutto abbiamo bisogno di un incentivo diciamo quei soldini e intanto vediamo se lei è rimasta effettivamente incinta lei è tornata da lavoro e sei stanca morta guardate che faccia poverina come stai dovresti compilare rapporti ma non abbiamo niente guardate infatti ragazzi ci servono soldi per comprare il computer e anche per comprare la tv direi di andare con ellie al pozzo dei desideri ed eccoci qui siamo qui anche con jacopo dagli un bel bacio anche se non sappiamo perché non vuole dire che è incinta cosa sta diciamo covando lei cioè cosa nasconde ragazzi sembra andare d'accordo e lei sembra incinta allora qui c'è il pozzo io direi andate insieme guardate che bella questa zona guardate se non è romantica qui possiamo portare anche i bambini futuri guardate comunque ditemi secondo voi cosa sta tramando ellie perché non lo vuole dire no no ma ci va malissimo no accidenti ellie va nel panico i simoleon che ha in tasca solo un'esca perfetta per le fiamme maledette che avvampano le recesse del pozzo è chiaro che il pozzo non desiderava affatto soddisfare il desiderio di ricchezza di ellie ha cercato invece di fargliela pagare non ci posso credere guardate mamma mia no i miei simoleon sono stati in fumo oh mamma mia ellie riesce ancora a sentire le fiamme che le ambiscono la pelle non ha potuto fare nulla mentre i suoi simoleon uscivano dalla tasca no no guardate lui è felice non ha visto niente non vedere niente per carità siete rimasti poverissimi mamma mia e lei è incinta ma tu non lo sai quindi andate a casa forza sicuramente incinta perché ho visto su naglini poi alla nausea quindi sicuramente incinta e adesso anche di pessimo umore e siamo poverissimi ma c'è anche un'altra novità ragazzi e l'altra novità riguarda i nuovi vicini volete sapere chi sono i nostri nuovi vicini siete pronti ve ve lo faccio vedere e e e e e e e e ok ragazzi li avete visti eccoli qui quindi sono john e sua moglie perché è sua moglie ragazzi l'altra niente meno intanto lei cosa sta male però ok stanchezza per il lavoro e non è nient'altro lei sta malissimo mamma mia se sta male mangia qualcosa e questo soprattutto per arianna sarà un po' un dilemma perché lei ha una cotta diciamo per john e adesso vorrebbe andare a chiamare i vicini per andare al festival chiedi di chiacchierare assolutamente sì con john ma lei non sa che c'è john dall'altra parte e diciamo che aveva capito che john era o fidanzato o sposato però 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 adesso lo scoprirà meglio sicuramente intanto qui loro mangiano dai sfogati con lui digli com'è andata la mente dei problemi non avete più soldi ho fatto una sciocchezza non bisogna fidarsi al pozzo complimenti per l'aspetto tu l'allegralo un po' entusiasma ti dai forza non risponde nessuno e allora valli a visitare eh sì valli a visitare da sola allora ragazzi john non ci ha risposto poco fa quindi riproviamo a bussare e questa volta vediamo se ci fanno entrare sì ma chissà chissà perché lui ci evitava forse lui sapeva che lei era la sua nuova vicina eh questo è un problema perché lei è la moglie in più guardate qui c'è una culla questo non so se voglia dire che è anche incinta la moglie oppure se cercano di avere un bambino non si sa magari hanno cercato di avere un figlio non si sa non si sa ancora guardate l'appartamentino molto carino però lei diciamo che adesso ha visto che lui abita con lei però lo vuole invitare comunque al festival vediamo se facciamo in tempo da andare ciao allora facciamo un gruppo allora azioni aggiunge al gruppo ovviamente loro si odiano a morte però lui cede un po' al fascino della nostra arianna vediamo un po' il festival che dovrebbe essere qui uh sì possiamo andare insieme venite qui forza guardate lei come la stava guardando e tu vai con lei la segui o non la segui sì la segue ah 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 e penso che a lei non faccia molto piacere intanto lei è già forse più rilassata sta sparendo la cosa del lavoro dai cambiati un pochettino mettiti carina cambia abito dai che sei carina guardatela e adesso distanti da tutti possono diciamo spettegolare e anche magari flirtare un po' vediamolo attanto chiedi se è single e appuriamo se è sposato perché non ne siamo sicuri sei sposato? è sposato eh sì vabbè rallegralo un pochettino e proviamo comunque a flirtare perché lei comunque è un po' presa da lui e anche lui c'è dal fascino eh non va molto bene come cosa però c'è eh guardate come ci sta guardate offrigli una rosa vediamo se accetta la rosa guardate lui come si avvicina eh accetta è come la rosa conversazione profonda scatta una foto insieme assolutamente sì bravi una foto cheese benissimo poi prendete magari assaggia cibo prendi la porzione insieme no questi però non sono quelli della sfida voglio fare la sfida quindi tenta la sfida insieme ragazzi vai vai forza bravo tu per primo lei lei è imbarazzata qualcosa è dato male mmm non lo so perché è imbarazzata beh vediamo chi la vince tra i due uh mi sa che la sta perdendo la sfida e sono seduti distanti ma no vai vicino a lui brava vai vicino a lui forza parlagli un pochettino e rallegralo vediamo se passa l'imbarazzo diciamo che lui sì un po' ci sta un po' no non si capisce ragazzi è super super altalenante proviamo ad accoccolarci lui adesso è flertante però quindi abbiamo più possibilità vediamo se si accoccolano vi accoccolate sì eh sì ragazzi guardateli uh ragazzi i poster ci sono i poster prendi un poster sì perché valgono un sacco i poster vai vai non sempre veramente valgono un sacco però spesso sì questo vale 120 simoleon benissimo abbiamo recuperato qualche simoleon perché siamo al verde ma al verde al verde qui chi c'è guardate chi c'è qui Iris ragazzi c'è Iris non ci posso credere è venuta a controllare il suo marito è venuta a sfiarlo oh non ci posso credere intanto lui dov'è finito si è andato a nascondere dov'è finito dove sei dov'è si è andato a nascondere dalla moglie non ci posso credere direi di tornare da Ellie lasciamo lei qui alle prese anzi fai una cosa nel frattempo finchè torniamo da Ellie tu cerca di fartela diventare amica parlale un po' impara a conoscere forza perché lei vuole assolutamente John diciamo che è sempre più presa da John aveva in mente un po' anche Brad però John le interessa di più quindi forse cercherà di stringere una buona amicizia ma lei la odia rallegra insomma non va molto bene l'amicizia parla dei sogni ok e intanto noi ragazzi torniamo da Ellie e Jacopo vediamo se Ellie sta meglio ed eccoci da Ellie e Jacopo ragazzi lui è bello tranquillo guardatelo qua bello tranquillo e sereno anche lei si è ripresa è bella serena e ha deciso di tentare il test perché non vuole restare diciamo nell'indecisione noi abbiamo più o meno capito che è incinta per forza perché aveva i conati di vomito e tutte queste cose però non sappiamo perché non vuole dirlo diciamo a Jacopo ma intanto vuole togliersi un peso e fare il test si è incinta ragazzi è incinta e non lo sto andando a dire a Jacopo pare se ne sta lì spensierata diciamo ha il male di pancia ma glielo dovrà comunicare dovrà dirgli che comunque quel giorno nel cespuglio è rimasta incinta vi lascio ragazzi alle supposizioni ditemi secondo voi cosa ha combinato Ellie io su instagram vi lascerò comunque dei segnali che possano farvi capire diciamo e noi per questa puntata ci possiamo fermare qua con questo episodio mettete un bel like se il video vi è piaciuto lasciate un commento iscrivetevi al canale anche al canale di facebook e di instagram che vi lascio in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti